da entrambi i fronti, abbiamo l'euro e abbiamo provato a mantenere tutte le protezioni doganali che con l'euro era un ancore di salvezza ma da questo punto di vista avendo regalato a Bruxelles la scelta su tutta la politica commerciale, hanno tolto i dazi sul riso, sulle calzature, sul mobile quindi cornuti e mazziati purtroppo perché senza l'euro potremmo permetterci i competere ci hanno messo la palla al piede destro che è l'euro, la palla al piede sinistro, hanno tolto tutti i dazi manca la croce e poi abbiamo finito. Allora io ho due cose veloci, una è già stata in parte accennata prima dal signore per la moneta complementare io non so se avete letto il manifesto di Libera Europa, c'è dentro Andrea Benetton, Giacomo Zucco del Tiparti hanno proposto una cosa simile, cioè una doppia moneta, non proprio moneta complementare mantenere l'euro per gli scambi chiaramente a livello internazionale e l'altra tipo per pagare gli stipendi statali quindi fare svalutazione o comunque fare una politica economica diversa con l'altra moneta l'altra cosa invece, un'altra domanda, la volevo fare al professor Bagnai che ha due, io condivido quasi tutto però ha due peccati originali per me uno perché a Fiorentina io sono pisana, l'altro è che è un chienesiano io non credo che la spesa improduttiva produca ricchezza anche perché noi in Italia di spesa improduttiva ne abbiamo fatta tanta vediamo i forestali che scavano nemmeno le buche e le riviempiono mangiano l'abbacchio dalla mattina alla sera come fa a vedere le iene come dice il buon Salvini sempre in tutte le trasmissioni e non producono ricchezza anzi svuotano una parte delle tasche del ceto produttivo che lavora dalla mattina alla sera per pagare le tasse anche queste persone che fanno invece spesa improduttiva grazie assolutamente sì, come posso perdere l'occasione di parlare con un'interlocutrice coraggiosa, brillante e anche affascinante allora mettiamo le cose in chiaro adesso spero di non trovare adesso un morto in stanza visto che avevo... in ogni caso io ero qui quindi ho un alibi non sono stato io guardi, le dico una cosa una delle cose anche che... allora precisiamo sono d'accordo che una riqualificazione della spesa pubblica può essere estremamente utile e anzi è necessaria e doverosa in Italia così come secondo me una riorganizzazione della pubblica amministrazione io vengo da una famiglia di imprenditori, artigiani c'è un po' di tutto ci sono anche gli imprenditori e ho più volte da quando ho aperto il blog ricevuto testimonianze di imprenditori perché in Italia lo Stato anche quando chiede ciò che deve avere si presenta sempre come un nemico e si presenta come se tu volessi fregarlo quando anche sei onesto io questo non riesco a capirlo d'altra parte però io sono uno che viaggia con la cintura e quando vede i carabinieri non frena perché non sta andando a 140 in un centro abitato ma insomma a quei 60-70 che a Roma sono tollerabili provate a beccarmi se ce la fate tanto vi vedo comunque chiaro anche noi abbiamo interiorizzato questo atteggiamento per cui siamo antagonisti dello Stato e quindi ogni volta che vediamo una divisa ci preoccupiamo io ho avuto pure la fortuna di portarla per cui non mi preoccupo di meno adesso veniamo al punto il punto che l'economia è fatta di cose facili che però vanno un attimo capite perché l'economia esiste perché esiste lo scambio per gli economisti bravi oggi ho incontrato Fausto che ci saluta e gli dispiace di non essere qui per gli economisti bravi esistono dei modelli che si chiamano modelli da Robinson Crusoe che sono molto belli vengono pubblicati su American Economic Review dove c'è un unico uomo che è tutta l'economia c'è un albero che gli dà dei frutti lui li investe è un complicatissimo modello matematico per dimostrare fondamentalmente che deve piovere sul bagnato ma non esiste questo in realtà l'economia esiste perché si ha il meno in due e in due uno dà e l'altro prende anche se è pisano o viceversa capisce qual è il concetto quindi quando lei parla di spesa pubblica si dovrebbe sempre ricordare che la spesa pubblica è un reddito privato purtroppo poi può essere un reddito privato diciamo così improduttivo in un'ottica di lungo periodo se il mio dipartimento compra in questo momento 100 risme di carta a una cartiera che sta chiudendo e gli dà dei soldi cosa che non può fare peraltro quindi è un caso assolutamente impossibile e io poi invece di andare a fare lezione sto nella mia stanza con le forbicine faccio tanti coriandoli li butto dalla finestra questo è chiaramente improduttivo ma secondo lei il proprietario della cartiera è contento o no? e poi non banalizziamo Keynes a questo tipo di discorso che è ovviamente estremo Keynes ha fatto un discorso che non è scaviamo le buche e riempiamole Keynes ha dimostrato qualche cosa di più profondo cioè che i mercati finanziari purtroppo intrinsecamente non sono in grado di allocare in modo efficiente il capitale perché tu non vai a comprare un'azione perché credi in quell'azienda e sai che fra 15 anni il suo meraviglioso progetto creerà chissà che cosa ma perché tu come sa benissimo Claudio pensi che fra 15 secondi se sei abbastanza forte e ti muovi e dai un segnale al mercato così tanti fessi compreranno quel pezzo di carta che tu potrai rivenderglielo al doppio del prezzo questo ha detto Keynes questa è la cosa importante è per questo che viene demonizzato perché ci chiede ci interpella e non ha saputo lui dare una risposta che non sia quella di come dire mettere lo stato a presidio del mercato che è una risposta imperfetta ideologica sono d'accordo con lei una risposta non l'ha saputo dare ma ha saputo segnalare un problema cioè il problema che in mercati dominati dalle aspettative di breve termine fatalmente non si riesce a convogliare il risparmio dei cittadini che nel capitalismo ha il bene più prezioso non sempre verso impieghi produttivi nel lungo periodo questo è il problema su questo dobbiamo confrontarci e unirci il discorso della buca e del forestale guardi io non lo so non sono un esperto di foreste quindi però ci siamo capiti da fiorentini da ex fiorentini poi sono anche un ex fiorentini devi capire che è la differenza grazie grazie